Foggia 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 è stata una scoperta, è stata un'adozione, abbiamo sentito foggiano per questi giorni, le persone mi hanno accolto con affetto, ci hanno accolto con affetto. Una delle cose per cui facciamo questo progetto è proprio per far vedere che le orchestre sono parte della comunità, anche se arrivano da lontano, anche se si mischiano. Questo teatro è un po' il centro pulsante dove si può vivere tutti insieme, quindi grazie Foggia, grazie Teatro Giordano. La nostra orchestra ha inglobato tanti ragazzi giovani, per me un'età non esiste, uno dei vantaggi della musica è che sia sempre piccolo, non inseguite il successo, ma inseguite la musica perché il successo è solo un participio passato, è successo. Grazie. 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 Grazie.